O Dio, nostro Padre, concede al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno, un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Fratelli e sorelle, così abbiamo pregato il mercoledì delle ceneri quando abbiamo cominciato questo tempo santo della quaresima. Vedete, noi siamo invitati a combattere lo spirito del male, perché lo spirito del male è sempre presente nella nostra vita di ogni giorno. Ma grazie a Dio è presente con più forza anche lo Spirito Santo. È stato lo Spirito Santo a spingere Gesù verso il deserto per riflettere un po' sulla sua missione e colloquiare con il Padre. Fa un po' sorridere e provoca dentro di noi una grande speranza, vedere che almeno Gesù è stato tentato, almeno per ciò che è riportato nel testo di oggi, è stato tentato al quarantesimo giorno. Purtroppo noi, basta che iniziamo l'esperienza spirituale, veniamo tentati ad ogni momento. Ma vedete, quando combattiamo lo spirito del male, c'è lo Spirito Santo che ci aiuta e ci accompagna e alla fine è Lui che combatte dentro di noi contro queste forze che spesso creano dentro di noi una grande confusione. Invece lo Spirito di Dio ci dona pace, ci dona tranquillità per poter poi colloquiare con il Signore. E Gesù allora lo vediamo nel deserto dove stava senz'altro colloquiando con il Padre e il quarantesimo giorno è tentato dal diavolo. Vedete, fratelli e sorelle, il diavolo conosce bene le scritture, ma grazie a Dio Gesù Cristo conosce le scritture molto molto meglio del diavolo perché è Lui che dà senso a queste scritture. Il primo insegnamento proprio è legato alla scrittura. Se vogliamo vincere, combattere e vincere il diavolo, il Signore ci invita oggi come Lui a usare le scritture, la parola di Dio. Se vogliamo usare i nostri mezzi, senz'altro perdiamo già prima di cominciare. Ma Gesù ci invita a usare le scritture, a usare la parola di Dio, quella parola di Dio che ci ha cambiati e che noi la usiamo per confondere le forze del male che sono presenti nel nostro mondo. Vedete, sono tre grandi tentazioni che poi sono sempre presenti anche in noi. La fame, al primo luogo, quando abbiamo la fame siamo forse disposti a fare di tutto. Esau ha venduto la sua primogenitura perché appunto aveva fame. Ma Gesù oggi ci ricorda che l'uomo non vive soltanto del pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La parola di Dio ci può veramente aiutare a vivere e ci può aiutare ad andare avanti. Ma vedete, se usiamo la parola di Dio per rispondere, per combattere, senz'altro riusciamo. La seconda tentazione è quella di vedere l'opera di Dio come un atto magico. Dio non fa magia, perché Dio realizza la sua opera nelle anime disponibili a essere guidate da Lui. Allora, se vogliamo proprio accogliere l'opera di Dio dentro di noi, lasciamo che Dio incontri la nostra libertà per poter cominciare a camminare insieme a Lui lasciandoci guidare da Lui. L'ultima è la gloria di questo mondo. La gloria di questo mondo è fugace, finisce subito. Ma Gesù ci ricorda che dobbiamo adorare solo Dio, non adorare i grandi del mondo che diventano anche i grandi corrotti, perché se siamo assettati di gloria, senz'altro possiamo essere corrotti facilmente. Invece se sappiamo che la gloria appartiene a Dio, sapremo anche gestire le altre glorie di questo mondo che poi durano pochissimo. Allora, fratelli e sorelle, usiamo la Sacra Scrittura per portare avanti il nostro combattimento spirituale e viviamo questo tempo santo come un'occasione che Cristo ci dona per poter invitarlo nei nostri combattimenti di ogni giorno e riuscire. Perché dove c'è Cristo c'è lo Spirito Santo e così entrambi ci conducono vittoriosi al Padre. Vi benedica come ogni domenica andate e trovate il Vangelo di oggi secondo Matteo al capitolo quarto dal versetto uno all'undici. Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti e buona quaresima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.